Sono quattro autori importanti, partiamo da quello che è forse il più conosciuto, dal nostro carissimo Pirantello, di cui riproponiamo la favola del figlio cambiato. Poi altri autori siciliani, il Laverga con due opere, La lupa e La cavalieria rusticana e infine un autore che ci appartiene non tanto perché è nostro nato in Sicilia, ma solo perché ripropone la tragedia di quella che è la nostra cultura siciliana, greca, euripide con la Medea. È uno spaccato di vita di quattro donne che si ritrovano insieme a raccontare ognuno la propria vicenda, vicende che sono simili e somigliano tanto a quello che è lo spaccato storico di una volta. Un tema attuale, Alice Palumbo, quello delle donne e tante donne saliranno sul palco. Sì, protagonista è la donna, quindi ci sarà una massiccia presenza femminile, siamo protagoniste di questo spettacolo. Io interpreto due personaggi femminili, sono due ragazze, due giovani donne sicuramente diverse tra di loro, quindi due personaggi molto differenti che mi hanno permesso veramente di poter sperimentare questa versatilità nel passaggio da un ruolo all'altro e nel potere anche rappresentare diversi volti, le diverse sfaccettature dell'essere presenza femminile nella società non solo passata ma anche contemporanea perché come vedrete assistendo appunto allo spettacolo anche la donna attuale, la donna moderna può benissimo identificarsi in questi personaggi senza avvertire lo stacco temporale e lo stacco finzionale. Il personaggio di Mara appunto della Lupe è una ragazza innocente, un po' ingenua che è costretta a sposare un uomo che inizialmente non ama ma del quale si innamora in un secondo momento perdutamente e quindi poi difenderà quest'amore. Santuzza invece, lo sappiamo, l'opera è famosissima, ama follemente un uomo che nonostante le promesse e i giuramenti iniziali non ricambia i suoi sentimenti e quindi questo la porterà a una sofferenza indicibile. Voglio dire che insomma sono due donne fragili ma al contempo forti come soltanto le donne che sanno amare con tutto se stesse sanno essere. Dobbiamo citare anche gli altri protagonisti, quindi Liliana Nicosia che interpreterà Medea di Euripide, poi Palmira Pardo che interpreterà la favola del figlio campiato, la madre, Cavalieri Rosticana nel ruolo di Lola e infine Sabrina Comunale che interpreterà la lupa di Giovanni Verga. I nostri maschietti che faranno così, faranno da cornice, lo Bartolo Antonio è il sottoscritto. L'appuntamento è per giorno 7 maggio alle ore 21 al Teatro Ambito di Machitel, mi raccomando vi aspettiamo.